Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della Skate Factory con Marci Ciao a tutti, io sono Spider Marci E sei lezzo perché c'è un cappello lezzo man Aspetta guarda Cosa? Aspetta fai vedere il fan questo Aspetta E ti sto guardando man Aspetta aspetta Non me l'ha dato Che cosa sarebbe? No man Che cosa brutta Questo veramente è bruttissimo Questo è il coso dei cannibali Ma vai via Comunque cominciamo con le cose serie Allora abbiamo levato tutte le ceste che c'erano qui le scorse volte E le cose brutte le abbiamo buttate Quelle utili le abbiamo lasciate qua dentro in questa ceste condensate proprio E oggi ragazzi andremo a fare un generatore di cobblestone Non è di cobblestone Un generatore di lava lezzissimo che appunto ci servirà per i nostri generatori Tanta energia Per produrre RF Allora Però spieghiamo anche una cosa Dillo E vabbè Allora Marci Ehi tu che volevi spiegare qualcosa Bisogna spiegare che abbiamo fatto una stanza sotto Intanto ci stavo craftando quale cose utili Quindi andiamo a vedere la stanza Sì Abbiamo fatto la stanza sotto Abbiamo sistemato un motibar Abbiamo fatto degli altri barrel Per mettere delle altre cose Ah sì è vero Facciamo vedere qua Tipo la stanza ragazzi Qua laggiù praticamente c'è il mob spawner Che in automatica appunto porta roba Qui guardate come è sistemato Guardate quanto abbiamo farmato 51 loading bag di queste qui Che sono non comuni 24 orari Cioè veramente messi bene per ora E poi abbiamo cambiato Partito delle cose Tipo lezzissimo E Marci off camera Ha craftato un'altra di queste qua Perché era piena E ora è piena anche questa Quindi vabbè Vabbè Non so che ne faccio un'altra Un'altra Ah poi volevo far vedere ragazzi Volevo fare donare ragazzi una cosa Che praticamente Ho craftato Vi ricordate che negli scorsi episodi Abbiamo detto Eh non troviamo un cavo decente Per far passare l'energia Abbiamo finalmente trovato Il ledson flux duct Che vi ti passo Te ne passo uno metano Che praticamente Questo funziona con Lo siamo fortunati Funziona con tutto Quindi niente Ora non abbiamo più problemi di cavi Cioè dovrebbe Infatti dovrebbe trasportare corrente Nella teorica Marci te lo ripasso Perché per ora non mi serve E quindi così possiamo fare i generatori Comunque la stanza sotto ragazzi È una stanza semplicissima Non ve la faccio nemmeno vedere Tanto è vuota E per ora Cominciamo a craftare man Ah peraltro Non ho detto anche un'altra cosa Che ho aperto una loot bag Rare O uncommon Non mi ricordo Ho trovato uno speed upgrade Forse l'ho anche fatto Nella mia episodica Ma non mi ricordo Non lo so questo Sinceramente Comunque Marci Delle ossa Ce le abbiamo qua nella farm In teoria vero? Per far immagasinare energia Con la lava Facciamo un botto di crucible Non i magma crucible Sì man ma intanto Mentre craftavo Spiegavo Cioè Scusami Te lo faccio fare a te Perché ora Non parlo più Ho detto Ora man Io sto facendo la porcellana Che ho dovuto Andava messa No prima si facevano i crucible Ma si chiama porcellana Perché l'ha fatta un porcellino Man però c'è un problema Dimmi No ok forse va bene E non se ne possono fare Tanti quanto sperato Bravo sinceramente Se ne possono fare Sei e basta Guarda che ascolta Mi pare Non ne sono sicuro Che se i barrel Li riempi tu con l'acqua Funziona I barrel Non ne sono sicuro però No infatti è che C'è un altro suo Che non c'è voglia Di andare a farne altro Vabbè comunque Cos'è che devo mettere la dust Un'altro uno prima Quando ero off camera Vabbè Vabbè nell'isola Sponano però Non è che sponano Sì sì No no Sponano nell'isola Vogliamo parlare che E' riasponato anche un creeper Man Mi sponano Queste cose non si dicono On camera Non mi sponano di cose Man No no Non mi sponano Vabbè comunque Hai preso tutto Io posso fare qualcosa Io faccio il led Man allora Mi potresti fare un'altra Di quelle celle laggiù Che sono tutte piene La led Sono da raggi sale Sì Sì perché Veramente ce l'abbiamo Tutte piene E così si sta sprecando Energia veramente Allora un copper In copper Devo fare Ok Basta che non mi pieghi Tutti i materiali Perché sennò Siamo messi male Allora ok Per ora hanno fatti sei Noi ce l'abbiamo Della cobblestone Che domanda Che domanda ha fatto man Infatti appena Ma che cazzo Sto dicendo Allora qui dovremmo Dovrebbero esserci No qua è meglio farlo Guarda Dove Questa parte di qua Dici Sì opposto Sì sì Secondo me sì Ok vabbè Io faccio una lunga riga Tanto poi se ne metteranno Altri in futuro magari Sai che ti conviene Farla verso il sotto Invece Perché sennò così Sprecchi tantissimo spazio No ma non si spreca nulla Alla fine Vabbè fai te Io intanto vado a fare Il led Sono energie Man Proprio devi stare Tranquillissimo Tanto è una cosa Che ora si fa così Tanto per insomma Almeno funziona Si rende funzionale E poi comunque col tempo Se vuoi ottimizzare Magari si chiamano Tutti i blocchettini E tutto Marci c'è un problema Però ora No Non mi parla di problemi No no La lava Mi serve molta lava a me Ce l'abbiamo su se non sbaglio O no Aspetta man Che sto craftando il coso E te lo vado a dire subito Io un secchiellino Ce l'avevo Non so dove l'ho messo Quindi mi crafto un altro Ma ah no Questa la usi te Che lezzo Tra tutto è proprio la mia Che cosa Ok no Vi so che stavamo utilizzando La solita Mi sa che mi tocca fare Avanti e indietro Fino a che non prendo Tutta la lava Tutto qui ha finito Sì ho che la fai Tutti e cinque Quindi vado su Prendo tutta la lava Che c'è Nelle crucible Che sta su Ed Che credo ci dovrebbe essere Tipo cinque secchiali Se non sbaglio Però ma l'onna che giro Ma Io mi perdo per casa Veramente È una cosa anomala E non posso più nemmeno correre Devo mangiare qualcosa C'è fame Silver Il silver era questo qua Marci ora posso farti Una domanda Ma mi spieghi Perché qua hai tolto dei blocchi Ma dove? Sopra Che mancano i blocchi Perché? Di legno Ma non ho noto Ti è esploso un creeper man Ma no non è vero Te lo giuro che non sono stato io Te lo giuro Ma sei serio? Sì Ma che cavolo Ok comunque riesci a portare Un pochettino di lava qua? Eh sì Intanto vediamo Se così si piazza lo stesso Sì perfetto Allora poi c'è già tutto pronto Lì basta collegarli È già fatto Guarda man Hai già messo? Anzi aspetta un attimo Guarda Facciamo una cosa Cosa? Togli 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 Che stai facendo man? Se li facciamo passare da dietro È più semplice Perché tu almeno lavori davanti Con I transfer node Così Sì vabbè Tanto non sarebbe cambiato molto Però qua man Non li hai collegati Te lo dico eh Quindi magari collega un pochettino Boom E Qua sarà collegato in due Però vabbè No ma intanto guarda Basta spostare Ecco fallo così Tanto qua si allarga ancora Ok perfetto Allora io intanto vado a finire la cella Perché almeno finisco la cella Non c'è un motivo Ok perfetto Voglio fare la cella Io devo fare intanto Man una cosa Se tu mi vuoi aiutare dopo Ora intanto io qui faccio altri Transfer node dei liquidi Se mi guardo come si fanno Tu dimmi quello che io devo fare È riempire tutta la striscia sotto di lava Man è un brutto lavoro Sì sì lo faccio io Lo faccio io Guarda Lasciami finire un attimino qui Il lidstone coso Che l'ho appena finito Vai tranquillo Allora a me servivano i cosi qua Dei transfert Cosi Transfert Vediamo com'è che si vogliono Perché me lo scordo sempre Allora Ah un secchiellino Ecco come l'ho utilizzato Boom Stone o no Ma perché si sta facendo infinita qua Come si sta facendo Non si fa infinita man Ma è strano guarda Salto un blocco Non lo metto qui La metto qua Ok non posso Pena da qua Ok niente Ma infatti che cavolo Ma che cavolo Stai dicendo Man per favore Non fare domande Perché guarda Se no mi arrabbi Ok ne mancano soltanto due lì Man c'è un problema però C'è un problema La cobblestone entrava da sopra E basta mi sa eh No no Forse Perché non ce la sta buttando dentro E allora entra solo da sopra Eh senti io ci provo No perché potrebbe essere Che mi sto sbagliando io Però non vedo che entra Quindi faccio un attimo Questo tentativo qui Perché mi sembra un po' strana Come cosa in effetti Mi sa che entrava solo dall'alto A sto punto Sì Vediamo Non lo so Sicuramente non capisco Guarda che Hai dimenticato una cosa Cosa Fondamentale Cosa ho dimenticato Di fondamentale man Vabbè qua C'è un po' Qua le misi uti Ok Devi mettere Il transfer node qua Tranquillo Ne avevo già craftato uno Prima di iniziare l'episodio Ma come il transfer node qua Guarda Ma no ci dovrebbe andare In automatico da sopra eh Eh no ma se tu lo fai da qui È più veloce Eh sì ma dico Non Ah guarda No e vedi vedi Soltanto da sopra Ce lo mette Comunque da qui Perché prima non ce lo stava mettendo Ora invece ce lo sta mettendo Guarda come scende veloce Eh sì man Però il fatto è che Comunque ci andava messo Un altro da sopra Ti ripeto Sì sì Quello sì Eh no Era un piccolo errore Quello lì a caso Ok allora Io ne ho fatto Sono 7 però Di transfer node dei liquidi Perché Di più sarebbe troppo costosi Ora questi qua li metto dietro A questo punto Ma a te è davanti A davanti ok Però non saranno tutti pronti Va bene Alla mente va bene Lo stesso alla fine Perché No Intanto Io crafto almeno un tank Ok Quanto ossidiano hai te per caso Cioè Per per caso Quanto ossidiano hai Ossidiano ci dovrebbe essere 2 o 3 sopra Comunque guarda Sai cos'è la cosa bella Non servono i world Interactive cosi qua No no In automatico lo prende Il world interaction upgrade Se non ho Se non è Lo serve solo Per Tipo Spaccare Non lo so Perché noi l'abbiamo dovuto utilizzare Anche con l'acqua laggiù Perché se no non funzionava Te lo dico Comunque man C'è un leggero problemino Quale Ci serve dell'ossidiana Ci serve Ma c'è dell'ossidiana su 2 ce ne è Basta Ce ne servono 4 L'ossidiana si fa nei cosi Anche nei crucibel Se non sbaglio Eh che sarebbe anche una Una quest Sì infatti Penso con un secchiellino D'acqua E poi il crucibel Ignorante Prendo un pochettino Di redstone L'oro Ne abbiamo poco D'oro Comunque te lo dico Non è che ne abbiamo Poi tantissimo Quindi Andrebbe un pochettino Farmato Ragazzi Comunque Tutto questo Stiamo facendo Per dare energia Eventualmente Al A tutti i macchinari Che ci saranno Qui appunto Che serviranno Per farmare In automatico Tutti questi materiali Qui Così almeno Non dovremo Starci con 3 secondi Dietro Quindi Ok allora Vediamo se Mi hanno rubato Un attimino Cos'è che hai rubato No niente Come niente Ma in cos'è che rubi Stai sciallo Stai tranquillo Ma non posso stare sciallo Se invece che rubi le cose No ho solo bisogno Di ossidiana Ma non so come si fa Con il crucible Non lo so Io so che c'è un Macchinario Che ci permette Di farla Però boh Qua mi sa Che l'ho invertito Ok ok Ho fatto il lava generator Allora Ne piazzo Uno a caso Al posto Del survival generator E vediamo Se funziona Però madonna Veramente i cavi Secondo me Era meglio Farlo veramente sotto Non qua Perché Ho fatto una cazzata Perché C'è caduto Su un pezzo di Perché sono le cose Che faccio io a caso Aspetta un attimo Ok Ho notato Allora Ce l'hai altri cavi te Oppure no Dei transfert pipe Sì ne ho Perché dove devo metterli Allora Praticamente A un certo punto Se tu guardi Qua Guarda Dove è caduto appunto Questo pezzettino qui Ci dovrebbe essere Questo Guarda Il bacco legato Ah ma man Man Sciallo Non fare così Ti fidi Come no Ma Me l'hai rotto Feed me Feed you Ok ok Mi fido Mi fido Allora Innanzitutto Si mette Una cosa del genere Si fa Sì Fin qua Tutto ok Cosa vuoi fare L'ho ancora messo Un pezzettino più avanti Pensi Un birra Ok così Poi da lì Da qui ci mangi Guarda che bello Guarda È già pieno È già pieno Guarda quanto produce 3000 4000 5000 Altro che quell'altro Altro che quell'altro Che non faceva nulla Dai Ah è vero I tank Bisogna fare i tank Facciamoli Serve il vetro Eh lo so No non serve Dell'ossidiana È diverso L'ossidiana Si E allora Mi sa che è l'unica Aprire le looting bag Fino allo sfinimento No man ok Ok Cosa C'è del diamante Se riesci Prendi del diamante Si Quanto te ne serve Ehm Fai un piccone Un piccone Ah vabbè Beh onesto man In effetti Ho fatto un po' di ossidiana Un pezzo di ossidiana Come darti torto Mi riesci a portare Un secchiello d'acqua Allora io ti ho portato Il piccone lì Te l'ho buttato Comincia a spaccare L'ossidiana Stavo cercando di mettere Tutti i cosi qua Ok Proprio io ci devo andare A spaccare l'ossidiana Sei lezzo veramente Comunque me ne qua Continuano a sparire Le Le torce Non è che Ah perché la crafti qua Sei un genio Me ne sei un genio Sei un genio troppo Ok Praticamente presa anche questo Il resto ce l'hai te Cosa? L'altro ossidiana Sì Ok Devi salire te però Perché Anzi no Passamela qua Allora servono i panel Ce l'hai il vetro? Ne un pezzo E non so nemmeno io il perché Ne faccio Te ne faccio io Vieni qua Vieni su Ci sono ci sono Ma qua c'è del vetro eh Ti ho fatto già la cosa Vieni Basta che metti l'ossidiana qua Sei a posto Ma io manco ho capito dove sei Ah sei qua Apri la cosa Sì sì hai i lati Ok capito Vediamo Olè Allora Marci Una co Me l'hai rubato? No Che lezzo Come no? Non ho preso niente io man Man ma qua non c'è L'hai preso te Che cazzo è combinato man Man ma Cazzo dici Ma sei fuso Comunque una cosa Uno non converrebbe Metterlo tipo nello sludge Quella roba lì Perché io ho visto che va molto Cioè va molto più lento Quando non Non ci mettiamo questi Almeno si mette nello sludge Così si accumula un pochettino di materiale Ragazzi nei prossimi episodi Potremmo andare a craftare blocchi Con questo liquido lezzissimo Guarda che bello Quanto siamo? Ebbene infatti conteneva 4000 Ci ha messo 4000 Così almeno quando crescono gli alberi Si è visto che va molto più velocemente E appunto andiamo a accumulare questo qua Che si è visto che potrebbe droppare Dei blocchi molto interessanti Quindi Metti una torcia sopra Perché qua possono spawnare i mob Eh faccio io Eh sì sì Se vedi che mancano torce Mettili da qualche parte Perché man se no Se spawni un creeper qua È la fine Ci sta che proprio Tu vuoi collegare sotto Invece di mettere tutti i generatori sopra Ah ma quanti ne hai fatti di questi qua? Aspetta Ora che ci penso Di questo? Eh sì Che sono bellissimi Che mi hai fatto vedere prima Quanti ne hai? Qua sì No se si attacca non è il problema Serve la branch man Eh La vado a fare La vado a fare la branch Ce l'abbiamo in materiale Faccio questi leadstone qua Ok io faccio Guarda se la branch funziona Per non far collegare questi cavi E poi Teoricamente Teoricamente sì 100% Dove ce l'abbiamo il quarzo però? Ce l'abbiamo sopra Il quarzo? Sì il quarzo Ah il quarzo Ok sì 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 Dovrebbe essere sopra Oh eccolo E no è qua è qua Va bene anche questo penso No è un pezzo Vabbè allora vado a prenderlo sopra Perché ce ne dovrebbero servire 5 pezzi Se non sbaglio eh E 5 Non sono sicuro al 100% C'è ve lo redstone sopra? Sopra no ma nel mob Mobspawner sì Nel mob spawner Sì Proprio nella chest del mob spawner No no nella chest Nel Oh anche nella chest Perfetto nella chest 5 5 erano proprio quelli che mi servivano Zio Pedro Ma non mi ricordo Ok ce l'ho fatta a craftarlo No in verità ce ne è molto più di 5 5 l'ho già presa Ah vabbè Comunque so che ce ne era molto di più Allora io ho fatto la branch Vediamo se funziona Per non far collegare i cavi Che secondo me fanno casino 12 cose Sto scendendo man Ok Vediamo No Oddio ma che cavolo Ok l'ho levato l'ho levato Però qua E poi è bianco Eh appunto va bene Vuol dire che non c'è Vuol dire che non può fare collegamenti Ah e qua si può scegliere forse anche l'urti Man Sta funzionando E va velocissimo Davvero? Top top Man Eh quanto Voglio vedere ora quanto sta andando Effettivamente Guarda Ne fa tipo uno ogni pochi secondi Poi invece ci metteva 20 anni E dal periodo di energia Si man si riesce a ricaricare Man ma non si Allora una cosa Ma al posto dove È appena dove si devono mettere Dove c'è il simbolino del martello Si non so cosa ci vuoi Ci vuoi Io ho provato a metterci un martello ora Ma non me lo fa mettere Eh infatti Poi ci vanno gli upgrade Sai che cosa è bravo l'upgrade Prima mettono uno speed upgrade No man Non è della stessa mod Non è della stessa mod Non funzionerà mai Ok ragazzi Abbiamo sistemato un attimo Qua tutto Come potete vedere Abbiamo sposato Perché il buon marci Li danno fastidio Le cose disordinate E quindi ha voluto fare tutto ordinato In effetti così anche è meglio Perché in un futuro Potremmo mettere Molti più generatori di lava qui Per produrre molta più energia E potrebbe sembrare Più ordinato Non lo metto in dubbio Comunque dai Un buon lavoro Ci sta ragazzi Qua ovviamente off camera Andremo a fare altri Di questi qua Di Transfer to node Giusto per trasferire i liquidi Magari se riusciamo Facciamo anche un altro Lavate anche giusto Per non buttare via il materiale Ragazzi Perché ogni tanto Veramente non riesce A utilizzare tutto Tutta questa energia Quindi boh ci sta Quindi ragazzi Guardate che spettacolo abbiamo fatto Io spero che questo video Lezzissimo Vi sia piaciuto Ovviamente Nel prossimo episodio Ragazzi andremo sempre avanti Cerchiamo di fare cose Sempre più Lezze e utili Ovviamente Detto questo Il prossimo video Sarà sul canale di Marci Spero che questo video Vi sia piaciuto Ed è Ciao a tutti Ciao Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti